La Giunta regionale ha individuato le date per le vendite di fine stagione. Nella nostra Regione per l'anno 2015 si potranno effettuare in due periodi, dal 5 gennaio al 1 marzo e dal 4 luglio al 1 settembre. Lo ha stabilito la Giunta su proposta del Vice Presidente Assessore al Commercio Antonio Canzian. Le date d'inizio sono identiche su tutto il territorio regionale, a seguito dell'accordo del 2011 maturato all'interno della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, poi recepito a livello locale. L'intesa prevede annualmente l'inizio delle vendite dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e dal primo sabato del mese di luglio. L'individuazione delle date di conclusione sono invece lasciate alla valutazione delle singole Regioni, sulla base delle diverse esigenze territoriali. Le Marche hanno concordato il periodo di inizio e fine con le limitrofe Emilia-Romagna, Umbria ed Abruzzo, anche per scongiurare le penalizzazioni della concorrenza di confine, particolarmente avvertite nei bacini che gravitano su realtà amministrative diverse.